Allora iniziamo a parlare di un dispositivo fondamentale. Non è obbligatorio per il codice della strada ma per la nostra sicurezza è veramente importantissimo. Stiamo parlando del casco. Vediamo come si indossa correttamente. Allora il casco va indossato in modo che copra bene la nostra fronte. Deve essere appena sopra le nostre sopracciglia quindi non va bene quando è troppo in alto o troppo in basso. Dobbiamo avere poi due lacci che si vadano ad unire sotto il nostro lobo dell'orecchio e dobbiamo cercare di regolarli in maniera che siano sempre in posizione corretta. Infine dobbiamo avere il laccio sotto gola che stringe in maniera tale da non passare mai oltre il nostro mento. Deve esserci un po' di spazio cioè non ci deve strangolare ma deve essere sempre bloccato qui sotto. Per finire abbiamo una rotella di regolazione qui dietro che ci consente di stringere il casco e regolarlo in maniera che non si muova e che stia ben saldo alla nostra testa. Quindi quando andiamo in bicicletta sia per divertimento per lavoro per gioco usiamo sempre il casco ne va della nostra sicurezza.